Juve, John Elkan e la di saluto d'Andrea Agnelli. Torino voglio ringraziare mio cugino Andrea per averci dato emozioni straordinarie. Che non dimenticheremo mai. A parlare è John Elkan, CEO di Exor, all'indomani delle dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del CdA della Juventus. Successive alle ultime contestazioni della Consob sulle plusvalenze che fanno seguito all'indagine Prisma. Condotta dalla procura di Torino, con l'accusa di falso in bilancio anni di successi in questi 12 anni abbiamo vinto tanto aggiunto Elkan. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che sotto la sua guida hanno raggiunto obiettivi memorabili. La nostra storia parla di vittoria e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostengo e l'affetto dei nostri tifosi, abbiamo l'occasione di costruire un futuro straordinario. Futuro con Allegri il numero uno della Exor, azionista di maggioranza della Juve. Inizia poi a disegnare il futuro, le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità. Che mette al primo posto l'interesse della società ha detto Elkan. Il nuovo consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico. Guidati del presidente Gianluca Ferrero, insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente. Così invece sul tecnico Massimiliano Allegri, rimane il punto di riferimento dell'area sportiva della Juventus, contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo.